Musica Ci è venuto a trovare in redazione qui ad Abruzzo Damare il capogruppo del Partito Democratico Luciano Cilli il quale ci ha detto di volerci dare una notizia in anteprima. La notizia in anteprima è questa, cioè che intanto stavo andando in comune, ti ringrazio, ci siamo incontrati Horacio per fare anche questa breve intervista e che praticamente il TAR ha bocciato l'appalto della mensa scolastica. Quello fu il primo provvedimento fatto dall'amministrazione comunale. Il primo provvedimento fatto dall'amministrazione comunale con tanto vanto, con tanta sorpresa, ma in particolare con tanta risoluzione di eventuali passati scandali che c'erano stati ma che in realtà erano tutte chiacchiere politiche. La realtà invece oggi è un'altra, è questa, che praticamente non so come andrà a finire perché sto andando adesso in comune per vedere realmente i documenti ma sicuramente creerà dei problemi alla mensa scolastica e quindi le nostre preoccupazioni non erano tutte infondate. Quindi vuol dire che questa amministrazione sta continuando a toppare come quello che avverrà in consiglio comunale sulla sicurezza, come quello che avverrà sulla raccolta delle firme che questa mattina mi hanno incontrato alcuni cittadini e mi hanno detto di quello che è successo. Credo mai nella storia di San Salvo sono state raccolte quasi duemila firme per un disservizio o per un'azione che un'amministrazione ha fatto. Vuol dire che qui veramente stiamo in un momento particolare. Quando si arriva a dire perfino che un sindaco dice che finalmente ha tolto il malessere all'interno del sociale dicendo che finalmente i buoni pasti verranno dati a chi spetta, io mi aspettavo che il sindaco avesse detto a San Salvo non si danno i buoni pasti perché non c'è più bisogno. La realtà è un po' diversa il modo di vedere anche l'aspetto amministrativo. Senta Cilli ci fa una promessa che dopo che lei fa queste verifiche ci aggiorna magari anche telefonicamente sulle motivazioni per cui il TAR ha emesso questo provvedimento. Certo, anzi vi informerò e vi dirò proprio quali sono stati i motivi. Credo che il TAR è stato ieri quindi i documenti arriveranno nel giro di un paio di giorni perché è una notizia che noi apprendiamo con l'attenzione che mettiamo nella vita amministrativa anche guardando internet e guardando un pochino. Quindi la notizia è certa? La notizia è certa.